L'antefatto del Vangelo della diciottesima domenica del tempo ordinario è la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Alla fine di quel testo che abbiamo ascoltato nella domenica precedente vedevamo Gesù scappare, ritirarsi tutto solo perché il popolo voleva farlo re. C'è già in quel momento il tema del malinteso. Gesù è un re, sì, ma di un altro tipo rispetto a quello che in quel momento le folle stanno intendendo. Le folle hanno mangiato, sorprendentemente sono andati per seguirlo, per ascoltarlo e hanno trovato questa realtà di questo cibo miracoloso ed è qualcosa che riporta all'esodo, al momento in cui il popolo camminando nel deserto trovò il pane per la potenza, per la misericordia, per la provvidenza di Dio. Padre, ecco che questo è l'antefatto. Gesù nella notte camminerà sulle acque e raggiungerà i suoi discepoli che anche loro non hanno capito veramente tutto quello che è successo in quel momento e una volta arrivati all'altra riva del lago trovano che tutte le barche li stanno precedendo, li hanno inseguiti perché logicamente una volta che hanno trovato una fonte di sostentamento non la vogliono più lasciare. E qui si approfondisce il tema del malinteso. Sarà interessante notare che questa folla andrà in una sorta di crisi con Gesù, ma questo arriverà piano piano nel racconto di questo sesto capitolo. Quel che compare qui è questa strana frase di Gesù, frase che tende appunto a demistificare quello che sta succedendo, ma questa frase ci dà anche occasione di andare un pochino più a fondo nella nostra percezione della fede. Questa domenica appunto ci permette di capire un po' più seriamente questo tema del cibo. Dice Gesù, in verità, in verità io vi dico voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Allora questa prima frase di Gesù va compresa bene. Voi mi cercate non perché avete capito cosa significa quello che è successo, non perché avete visto cosa c'è dentro, cosa è nascosto in questo fatto, qual è il segno, ovvero sia a cosa rimanda, a cosa apre quello che avete vissuto. Vivere un'esperienza di provvidenza, trovare un cibo sorprendente, trovare una soluzione che non era disponibile e che non è umana e che è la moltiplicazione del poco che abbiamo che diventa molto. E' un'esperienza che possiamo fare. Tanti uomini e donne su questa terra fanno esperienza di grazia, ma non vanno oltre il semplice vantaggio della singola esperienza. Ricevere una cosa buona e semplicemente capire che c'è una cosa buona da prendere. E allora volerne ancora, tutto qua, non capire che dietro quel che succede c'è un'intenzione, c'è una storia, c'è qualcosa a cui aprirsi. Questo è il primo punto, restare superficiali, restare sulla pelle delle cose, non riuscire a vedere dentro tutta la storia di misericordia che Dio fa con ognuno di noi, l'intenzione di un padre di cercare il nostro cuore, cercare una relazione con lui. Ecco, mangiare basta. Mangiare non capire il senso del cibo. Questa è la prima cosa che dice Gesù, ma lui approfondisce. Datevi da fare, non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il figlio dell'uomo vi darà. Ecco, dobbiamo capire, perché questo è un po' il nucleo della catechesi che Gesù sta facendo a questa gente, cercare non il cibo che non dura, un tempo traducevamo, che perisce, che finisce, che dopo un po' semplicemente si esaurisce perché naturalmente è la provvidenza di un momento, ma cercare qualcosa che duri di più. Ecco, noi abbiamo capito spesso questo tipo di discorsi come anche una chiave del cristianesimo intero. Il cristianesimo come un grande digiuno, il cristianesimo come una grande negazione, il rifiuto di Gesù di proseguire in quella linea di semplice soddisfazione di un momento di fame come un tema di negazione e di chiusura. Ovvero, sì, il cristianesimo sarebbe un mondo di no che noi dobbiamo dire a noi stessi per essere più buoni o per essere più bravi o per essere più fedeli alla volontà di Dio. Ecco, Gesù non dice questo. Come già nella tentazione, nel Vangelo di Matteo, non dice al tentatore non mangerò pietre che diventano pane, semplicemente dice Mangio meglio, non di solo pane vive l'uomo, non è così poco quello che io cerco, cerco di più. E così dice alla folla che lo segue Cercate non un cibo di un momento, cercate qualcosa che duri. In certo senso, i nostri no nel cristianesimo non sono mai solo dei no, sono dei sì più grandi. Dire di no a qualcosa di piccolo, perché si vuole sempre qualcosa di più grande. Noi non digiuniamo per digiunare, noi digiuniamo perché abbiamo di meglio da mangiare. Procurarsi il cibo che dura, che resta, che valga nel cristianesimo. Noi non siamo chiamati a una serie di castrazioni, negazioni, di rifiuti. No, noi siamo chiamati a quello che vale veramente. Noi non neghiamo la realtà perché siamo gente che è fuori dalla realtà. No, noi andiamo alla realtà che conta veramente, quella che dura. L'incontro col padre, con le cose. Infatti il popolo non capisce perché continua a dire No, voglio mangiare. Ma no, c'è di più da mangiare. C'è un incontro da fare, c'è una vita più grande da vivere. Allora il popolo dice Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Ma di cosa stai parlando? Ecco, uno dice Ma cosa devo fare? E Gesù risponde Questa è l'opera di Dio Che crediate in colui che gli ha mandato Molto spesso La vita nuova passa per un momento di adesione Un momento di apertura Un atto di fede Un momento di fiducia E allora si scopre il cibo più grande Noi non siamo chiamati alla negazione Ma all'affermazione E ogni nostra negazione che pure c'è nel cristianesimo È semplicemente la liberazione dal piccolo per andare al grande Dal mediocre per andare al sublime Dall'insignificante per andare al significativo Ecco, cercare il cibo vero Questa domenica ci invita veramente a trovare quel che vale Forse in un certo senso porci mille volte la domanda In tutte le cose che stiamo facendo Chiederci ma vale la pena di fare quello che sto facendo Ma questo è il mio cibo Ma mi debo accontentare di questo Da che mondo è mondo? Il cristianesimo è una chiamata al sublime Non ad accontentarsi Ma a cercare di più A cercare ciò che vale e che resta Ma a cercare di più